Amici del Piccole Magazine, questa serata è stata veramente bellissima, all'insegna della gioia, della festa, la musica, tante artiste si sono esibite per noi e con noi. Grazie mille alla nostra Luisa Mello che questa sera ci ha deliziato come sempre, sei stata bravissima e bellissima. Come ti senti, com'è andata la serata? Mi sento benissimo, voglio salutare tutti quanti, tutti i piccoli magazine, piccole trasgressioni, tutti quanti. Mi sento bene, ti dico la verità, fa caldo, fa caldissimo, stiamo squalhando. È stata una serata stupenda, bellissima e devo ringraziare tutti quanti che sono venuti qua, sono venuti in tanti, sono tantissimi. Non c'è altro da dire, veramente grazie, sono contenta, tutti quanti sono contenti. Siamo state soddisfatte, è stata una bella soddisfazione, c'è spettacoli bellissimi, poi le ragazze sono state tutte brave, hanno fatto un bellissimo spettacolo. Ho visto anche la conduttrice, la Carolina, come sempre, ci sta su pezzo, diciamo, no? Assolutamente sì, ti sono state tutte bravissime. Vuoi mandare un saluto, un ringraziamento a Carolina, a Paola o a tutti quelli che sono stati qui con noi stasera? Allora, io vorrei ringraziare a voi ancora un'altra volta, cioè, come ti ho detto, no? Prima, non c'è altro da dire, no? In poche parole, grazie e ci vediamo alla prossima. E seguiteci per rimanere aggiornati su tutti i prossimi eventi con il piccolo magazine. Grazie a tutti.